Come avrete sicuramente notato, fino a qui vi ho mostrato dei lanci non lanci che lungo il fiume o il torrente fanno poi la differenza e questi sono i soli, gli unici, insostituibili lanci da pesca. Tutto il resto è solo poesia e una grandissima perdita di tempo. Buona visione a tutti voi. La canna si muove talmente velocemente da risultare invisibile. L'imitazione può sostare dietro al masso perché parte del finale è ancorato all'objeta. La canna alta impedisce alla corrente di tirar via il finale stesso. E un missile vola verso valle. Questi sono i lanci che fanno catturare trote, non le code tese in aria. Grazie a tutti. 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 risultato una trota mediterranea purissima risultato 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 Grazie a tutti.